Si respira nuovamente area di calcio a Battipaglia, iniziato il ritiro della battipagliese allo stadio Luigi Passena, presentato anche il nuovo main sponsor, Convergenze. Ecco nel dettaglio i giorni di allenamento e le prime amichevoli. Da oggi e fino al 15, allenamenti serrati di mattina e pomeriggio, con testi in famiglia, sabato. Riposo a ferragosto e poi si riprende il pomeriggio del 16 e si prosegue il 17. In programma invece per sabato 18 agosto l'amichevole con la Calpazio, squadra di promozione. La preparazione si ferma la domenica, poi dal 20 in campo nel pomeriggio e duro lavoro fino al 25 agosto. Sensazioni e emozioni per questo primo giorno? Emozioni sono sempre le stesse, quando si comincia c'è sempre quella apprezzione, quel pensiero di aver fatto bene il proprio lavoro. Penso di aver fatto un buon lavoro, messo a disposizione di una squadra consona agli obiettivi. Che squadra è? Che squadra dobbiamo aspettarci? Che bel paese sarà questa? Noi dobbiamo salvarci il via possibile e far divertire la nostra gente, riportare la gente allo stadio, riportare l'entusiasmo della città. È cosa che sta avvenendo perché stiamo avendo una attrezza di stima. Voglio dire, da questo punto di vista il nostro obiettivo è mantenere la categoria e poi divertirci. Continua anche questa campagna di sensibilizzazione con la città, tutti con noi? Sì, sì, assolutamente sì. La verità sta avendo un ottimo risponso. Siamo molto contenti perché la gente ci sta seguendo e soprattutto stiamo avvicinando anche delle attività commerciali, delle vere e proprie aziende. Quindi da questo punto di vista siamo molto contenti. Non è mai troppo perché l'affetto e la stima che la gente deve ricoprire, deve rivestire, nei confronti della squadra della città, deve essere sempre massimale e soprattutto deve essere sempre con numeri molto, molto importanti. Ripeto il mio concetto che ho espresso nella presentazione del mister. Penso che con una sorta di azionato popolare la battivaglia non ha problemi dal partito della prossima stagione. Mister, che gruppo ha trovato? Che spogliato c'era? Tutti diciamo bravi ragazzi, la maggior parte già riconoscivo. Addirittura uno ci ha giocato insieme, che è Pasquale Tarinzo. Sempre all'epoca che io abbattivaglia, penso che sono passati vent'anni, ma è duro. No, poi tutti i ragazzi di un certo livello, tutti bravi ragazzi. Ci vuole anche un po' di ignoranza però, speriamo di queste categorie, però va bene così. E questa è anche la giornata dell'ufficializzazione del nuovo main sponsor, Convergenze. La famiglia continua ad allargarsi. Sicuramente abbiamo avuto l'onore di coinvolgere quella che è un'azienda che posso garantire nei prossimi anni avrà una crescita enorme. e speriamo che con i risultati della Battipagliese e di Battipaglia di avere sempre al nostro fianco. Abbiamo scelto un main sponsor che è Convergenze, che è una SPA, che sta intraprendendo un percorso per quotarsi in borsa. Sicuramente la piazza di Battipaglia, come ben ho sempre detto io, viene vista in maniera positiva più dagli altri che da noi battipagliesi. Quindi hanno avuto voglia di investire su Battipaglia, di portare il loro marchio, di dare un supporto economico. E quindi un ringraziamento alla famiglia Pingaro, i quali hanno creduto e hanno investito su Battipaglia. E speriamo che Battipaglia darà un riscontro positivo anche alla loro di azienda.